Buongiorno bilancia siamo pronti qui per la vostra lettura che è valida esattamente per il momento in cui la vedrete e cioè adesso ovviamente non dimenticate poi di andare a vedere anche le letture del vostro segno ascendente e del vostro segno di luna perché potrete trovare in quelle dei dettagli aggiuntivi ma iniziamo subito e vediamo che cosa sta accadendo nella vostra vita amorosa e sentimentale un 10 di denari è un fante di spade questo è un momento in cui uno di voi è molto convinto delle proprie idee è molto solido nella propria posizione in effetti è anche molto soddisfatto di quello che ha mentre l'altra persona non è poi così soddisfatta non c'è la stessa energia non viene in effetti condivisa un'idea comune fra queste due persone poi voi potete essere in coppia o potete essere single questo cambia poco in effetti perché comunque quello che si evince da queste carte è che mentre per uno dei due le cose vanno tutto sommato molto bene per l'altro invece c'è bisogno di cambiare qualcosina e soprattutto c'è bisogno di un chiarimento cioè c'è bisogno di parlare chiaro e di dire un paio di cosette per aggiustarle ora c'è da aggiungere una cosa uno dei due si sente un po in colpa per qualcosa si sente in colpa perché pensa di avere fatto degli errori ma non sa come dirlo non sa come dirlo quindi ecco che chi di voi è in coppia magari ecco uno dei due ha proprio il carbone bagnato ha combinato qualcosa che non avrebbe dovuto combinare non sa come dirlo e sta aspettando il momento giusto o sta aspettando di trovare il modo giusto se siete single la situazione è più o meno simile perché comunque quando ci sono delle interazioni quando ci si frequenta per stabilire se nascerà o meno una relazione o che tipo di relazione nascerà è importante la sincerità ed è bello quando la sincerità viene appunto messa in pratica fin da subito dunque ora io so che uno di voi sta aspettando che sia l'altro a fare la prima mossa uno di voi sta aspettando che a comunicare sia l'altro ma in effetti è giusto così va bene però ecco quando non si sa cosa dire quando non si sa come dirlo la situazione rischia di entrare in una fase di stallo in una fase di blocco quindi andiamo a vedere quali sono le altre carte e vediamo un po' come si evolve questa cosa intanto una delle cose più chiare in tutto questo è che avete a che fare con un'anima molto importante per voi un qualcuno che tira fuori da voi emozioni forti intense le carte ci invitano ad amare senza paura e a vivere questa esperienza così come viene per quello che è senza appunto doverci preoccupare di cosa di brutto potrebbe accadere in ogni caso il nostro istinto il nostro intuito saprà sempre guidarci saprà sempre indicarci quando agire quando non agire cosa fare e come farlo abbiamo a che fare con una delle nostre anime gemelle ora non posso specificare esattamente per ciascuno di voi che tipo di legame c'è per qualcuno di voi potrebbe essere appunto un'anima gemella per qualcun altro un'anima compagna per qualcun altro una fiamma ma la cosa importante è che comunque c'è un qualcosa di carmico in sospeso fra voi ci sono delle cose che devono accadere che si devono svolgere in un modo o nell'altro e quindi vi tocca è un processo che vi tocca vivere non lo potete evitare potete semplicemente potete semplicemente fare due cose la prima è vivere il qui ed ora vivere il momento presente e cercare di agire e reagire in base a quello che la situazione vi richiede sul momento perché farvi troppi film mentali fare troppe previsioni su quello che accadrà o su quello che dovrebbe accadere non serve a nulla in questi casi piuttosto quello che serve e che è molto utile è essere più sciolti essere più spontanei osservare l'altro quello che fa l'altro e reagire di conseguenza ma anche vivere i bei momenti perché perché ci saranno dei momenti molto belli quindi sentitevi liberi di viverli c'è una scelta da fare questo sì ed è e non è nemmeno una scelta semplice è una scelta che vi porterà su un livello superiore non tanto dell'essere coppia ma un livello superiore di essere voi stessi vi porterà a una versione migliore di voi stessi potrete trovare una certa saggezza che fa parte di voi ma che finora non avete ancora scoperto non avete ancora messo in pratica tirato fuori al 100% ed ecco che è uno dei motivi per cui questa storia viene a voi proprio adesso e si sta manifestando in questo modo è proprio questo portare alla luce una vostra saggezza portare fuori da voi un vostro talento una vostra capacità di fare interagire andiamo a controllare cos'altro c'è eh già qui dobbiamo mettere in gioco un'energia femminile quindi intuizione sensibilità ricettività tra l'altro se ci troveremo in difficoltà o ci troviamo in difficoltà possiamo chiedere aiuto a diverse persone o a diverse entità le carte ci indicano che possiamo proprio chiedere aiuto agli altri quindi chiedere consiglio alle amicizie o alle persone che ci vogliono bene possiamo aspettarci l'aiuto degli altri che saranno nei nostri confronti molto disponibili perché facendo parte di un processo carmico tutto quello che sta accadendo è anche normale che l'universo ci assecondi in questo cammino e che quindi ci metta innanzitutto a disposizione le persone che possono accompagnarci che possono guidarci o darci qualche semplice piccolo consiglio ma poi l'universo stesso creerà delle situazioni che ci aiuteranno proprio nello svolgere del gioco nello svolgersi di questa avventura ovviamente non mancano a nostra disposizione le nostre guide i nostri angeli quelle entità spirituali che ci accompagnano in tutti i momenti più importanti della vita e che sono sempre lì pronte per rispondere alle nostre domande rispondendo con dei segnali o alle nostre richieste di aiuto creando per noi condizioni e situazioni che in qualche modo ci mostrano la strada giusta o ci fanno comprendere qual è l'atteggiamento migliore che noi possiamo avere in queste situazioni qualcuno di noi qualcuno di voi potrebbe per via di esperienze passate e per via di appunto vecchie ferite sentirsi un po' orfano a volte cioè un bambino senza genitori nel senso che magari qualcuno di voi potrebbe sentirsi potrebbe sentire che deve gestire certe cose da solo e che non non può e che deve necessariamente fare lui o lei queste cose cioè ecco in questo caso siamo davvero noi che dobbiamo prenderci cura di noi stessi gli altri possono sì darci una mano in effetti noi non saremo mai completamente da soli però siamo noi che dobbiamo per primi occuparci di noi stessi e questa sensazione di essere soli questa sensazione di sentirci orfani nonostante in realtà siamo circondati da opportunità o da persone che possono aiutarci ci porterà a lavorare sulla nostra energia femminile sulla nostra sensibilità sulla parte proprio più sensibile di noi e se non è una cosa che riguarda noi potrebbe riguardare l'altra persona quindi ecco guardate sempre queste stese come un qualcosa in cui alcuni elementi si riferiscono a voi e altri elementi si riferiscono all'altra persona la mala comanzia è la divinazione con le conchiglie è la profezia che viene dal mare chi la conosce porta nel cuore l'anima dell'oceano e negli occhi la luce dell'abisso ad ogni modo vi viene suggerito di perseverare vi viene suggerito di tenere duro nel vostro cammino di andare a testa alta e di continuare a sostenere le vostre idee il vostro punto di vista questo sembra un buon momento per dare e ricevere energia quindi evitate di chiudervi evitate di sentirvi soli è ovvio che legami come questi possono anche far paura soprattutto se in passato abbiamo sofferto possono davvero far tornare in noi alla luce delle vecchie paure però sembra davvero che possiamo star sereni con queste carte possiamo fidarci e io non dico mai che bisogna fidarsi delle altre persone in realtà non dico mai nemmeno che bisogna fidarsi di noi stessi la fiducia è un qualcosa di più ampio è un concetto che va offerto a tutto ciò che costituisce il nostro universo perché qualunque cosa ci accade per un nostro bene superiore magari non siamo così sicuri non lo vediamo sulle piccole cose o nel momento presente ma sul lungo termine tutto ciò che ci accade è per il nostro bene superiore e a questo punto ragazzi possiamo anche andare a vedere che cosa le nostre conchigliette divinatorie hanno da aggiungere quindi andiamo ad aggiungere qualche elemento in più alla nostra lettura per scoprire che cosa sta realmente accadendo fra noi o voi quindi ragazzi nel frattempo io vi ricordo che chi di voi vuole una sessione privata può prenotarla dal sito internet che sia una sessione o che sia un pacchetto l'unica cosa che non potete prenotare dal sito internet è la sessione di tarologia breve quella da 50 euro in cui mi fate una domanda specifica e io vi mando un video di risposta in cui vi analizzo ben bene tutta la situazione ma ecco la nostra configurazione che bello abbiamo un EIEIF con due conchigliette aperte e due conchigliette chiuse questa è una configurazione che parla di energia in equilibrio e descrive e descrive in effetti il fatto che ci stiamo comportando nel modo migliore possibile e che stiamo cercando di mantenere questo equilibrio al di là di ciò che può accadere o di quello che ci viene detto noi stiamo realmente lavorando bene non stiamo esagerando da nessun punto di vista non stiamo pretendendo troppo non ci stiamo nemmeno aspettando troppo dall'altra persona ma semplicemente osserviamo ciò che accade e come abbiamo detto prima reagiamo di conseguenza siamo in effetti molto bravi nel farlo l'unico elemento sul quale vi posso dire di portare maggiormente la vostra attenzione è il modo di ragionare su certi fattori su certe situazioni forse stiamo avendo un atteggiamento mentale un po' retro cioè in base alla cultura nella quale siamo cresciuti in base all'educazione che abbiamo ricevuto e al luogo in cui viviamo certi modi di pensare possono condizionarci fortemente dobbiamo stare attenti a non farci condizionare proprio da questi dobbiamo essere pronti a guardare quello che ci accade e soprattutto a guardare anche il punto di vista dell'altro con apertura mentale quindi l'equilibrio si c'è ma l'apertura mentale ci viene ulteriormente richiesta inoltre ci siamo anche invitati a non essere troppo spavaldi in certe manifestazioni a non essere troppo diretti troppo espliciti dovremo essere più moderati nel parlare però al di là di questi piccoli dettagli che appunto posso darvi in realtà davvero stiamo seguendo il nostro percorso nel modo migliore siamo capaci di stare nel flusso come si suol dire e quindi ecco che stiamo davvero avendo un atteggiamento ottimale ad ogni modo ragazzi se qualcuno di voi sentisse il bisogno di una sessione privata potete contattarmi potete prenotare direttamente dal sito oppure potete scrivere email o un messaggio whatsapp e noi ci vediamo alla prossima e ciao ciao